Ciao a tutti sono Sissi, bentornati sul canale per un nuovo video, oggi facciamo la recensione che più che una recensione sarà un po' una discussione degli episodi 1x3 e 1x4 di Tales of the Walking Dead, il nuovo spin off di The Walking Dead. Io sono tornata, sapete che sono stata via 10 giorni al mare, ho un sacco di cose da recuperare, mi sono presa questo due giorni perché sono tornata mercoledì sera, volevo già subito fare questo video il giovedì ma sinceramente non ce l'ho fatta, ero troppo stanca, quindi mi sono presa un paio di giorni per recuperare e niente, ed essere comunque abbastanza in forma per fare questi video. Adesso faremo appunto Tales, poi quando finisco di girare questo video registrerò anche i primi due episodi di La Casa dei Draghi, House of the Dragon, il prequel del Tron di Spade, quindi se siete interessati, se l'avete visto, cioè bomba, io vi posso già solo dire bomba, se avete intenzione di guardarlo io vi aspetto qui sul canale anche per appunto le recensioni della Casa dei Draghi. Dunque teniamo il martedì per The Walking Dead, questo è un evento straordinario perché abbiamo da recuperare, quindi oggi uscirà sabato l'1x3 e l'1x4 di Tales, ma poi da settimana prossima, quindi da martedì, la programmazione rimane quella di sempre. Quindi teniamo il martedì per The Walking Dead e il giovedì pomeriggio uscirà invece la recensione della Casa dei Draghi che adesso per i primi due episodi la farò uscire domani che sarà domenica, per me, per voi non lo so. Quindi a parte questi due video straordinari che sto facendo perché sto recuperando dalle mie ferie, teniamo il martedì per The Walking Dead e il giovedì pomeriggio per le recensioni della Casa dei Draghi. Dunque propaganda canale e poi iniziamo. Se siete qui e non siete ancora iscritti, male malissimo, vi dovete iscrivere perché si va sempre avanti sia con The Walking Dead sia con altre serie. Lasciatemi poi un like di supporto che è molto importante e sentiamoci qua sotto nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate appunto di queste due puntate, se siete tornati o no dalle vacanze, come sono andate le vostre ferie, la vostra estate, mi fa sempre piacere parlare con voi e quindi niente, sentiamoci qua sotto nei commenti. Io ho anche un secondo canale che sta andando tra l'altro molto bene, dove faccio un po' altri contenuti, un po' di vlog, tra l'altro ho fatto il vlog anche delle ultime vacanze che sono state all'isola d'Elba e se lo volete vedere, se volete curiosare e darmi supporto anche lì trovate il link qua sotto in descrizione. Sempre in descrizione metto anche il video della live che ho fatto con Simone di NCI World che sta diventando una collaborazione definitiva perché a quanto pare dovremo fare anche un altro video tra settembre e ottobre, tra fine settembre e ottobre, prima che ricominci The Walking Dead e ci ritroviamo per parlare un pochino dell'universo di The Walking Dead. Abbiamo fatto una live di ben due ore, cioè io ho parlato per due ore, ci potete credere? Io ci credo, ci credo che ho parlato per due ore e abbiamo parlato di tutto, di Tales, di The Walking Dead, di Fear, di tutti gli spin-off che devono uscire. Tra l'altro c'è una novità importante che lo spin-off di Maggie e Negan ha cambiato nome, doveva chiamarsi Isle of the Dead, quindi l'isola dei morti, ma si chiamerà The Walking Dead Dead City e a me sta pure bene, sembra un po' un titolo di GTA, però va bene. Quindi, poi, altre news, niente, l'abbiamo già detto, martedì lo teniamo per The Walking Dead e il giovedì pomeriggio ci sarà La Casa dei Draghi e io vi invito a vederlo, questa nuova serie che è il prequel del Trono di Spade, se non avete visto il Trono di Spade è meglio che lo vediate, ma non fa niente, non è proprio necessario e, niente, sono usciti i primi due episodi, è una bomba, adesso ho finito questa recensione, farò la recensione anche di quello, un progetto abbastanza ambizioso, non mi ricordavo più di avere ancora il Covid Brain, ho ancora un po' di nebbia mentale da Covid, sono ancora un po', non so se sono un po' esaurita, ho ancora nebbia mentale da Covid, è un progetto un po' ambizioso, portare anche La Casa dei Draghi, ma mi fa molto piacere perché io in passato ho fatto il Trono di Spade, so che c'è tanto da dire, tanto da ricordare, cioè è macchinosa come serie, tanti nomi nuovi da ricordare, nomi, voglio dire, non troppo facili, però lo facciamo con calma, si fa tutto, lo facciamo anche quello, e niente, avevo detto che in passato ho detto che probabilmente avrei portato anche la serie del Signore degli Anelli sul canale, ma ho deciso di no, ho deciso di no per la mia salute mentale, perché troppi impegni, visto che comunque anche il mio secondo canale sta andando molto bene, devo dedicarmi un po' anche a quello, quindi, cioè devo dedicarmi molto anche a quello, quindi Il Signore degli Anelli non lo faccio, anche perché io i film non li ho visti, cioè quando ci ho provato a vederli mi sono sempre addormentata, quindi non sono preparata proprio per niente, per me sarebbe un sobbarco di cose, visto che è ancora il Covid Brain anche, tra le altre cose, e quindi ho deciso di no, però molto probabilmente Il Signore degli Anelli la fa appunto Simone di NCI World, quindi andate da lui, perché ho visto che forse aveva in programma di fare una live sul Signore degli Anelli, non lo so, ma molto probabilmente la farà lui, perciò andate a bazzicare sul suo canale, seguitelo e niente, quindi incominciamo che dobbiamo parlare appunto di questi due episodi, è già tardi, parliamo, faccio un unico video per tutti e due gli episodi, perché sono stati, infatti non è proprio una recensione vera e propria, ma parliamo un pochino di quello che ci è piaciuto, di quello che non ci è piaciuto, delle nostre impressioni, dunque le mie impressioni sono queste, sono stati sicuramente due episodi molto piacevoli da vedere, perché non si può dire di no, sono stati piacevoli da vedere rispetto al secondo episodio che è stato totalmente deludente, la 1x2 di Tales, questi due episodi sono stati piacevoli, ma la sensazione generale, che è un po' la sensazione che ho già detto per i primi due episodi di Tales, è che non sembra di essere in The Walking Dead, nonostante l'1x3 sia stato l'episodio su Alpha, io avevo un po' di pregiudizi entrando a vedere questo episodio, perché voi lo sapete, io avevo sempre detto che palle l'episodio su Alpha, ormai è morta e sepolta, ce la siamo levati, adesso ritirarla ancora in ballo, quindi avevo un pochino di pregiudizio. L'episodio devo dire che è stato veramente molto piacevole da vedere, ma ci sono state delle incongruenze, cioè delle cose che non hanno avuto senso per me, soprattutto verso la fine. Dunque abbiamo visto quelli di Tales e i registi di Tales e i registi di The Walking Dead, secondo me non si sono messi proprio molto d'accordo, per questo che dico anche che non sembra di stare in The Walking Dead, cioè non sembra di stare nel franchising di The Walking Dead, a cominciare appunto dalla storia di Alpha, perché abbiamo avuto un background di storia di Alpha e Lydia in The Walking Dead, che poi, cioè in questa versione non sembra coincidere proprio, non sembra coincidere proprio, per esempio, qui in questo episodio Alpha e Lydia si sono già, da quello che si capisce è che si sono già lasciate alle spalle il padre di Lydia, che era stato ucciso appunto da Alpha, che si chiama Adi, ovviamente, e abbiamo visto in The Walking Dead, in concomitanza con questa, con l'uccisione appunto del padre di Lydia, Alpha si era rasato i capelli, mentre qui sul battello Alpha ancora i capelli, e poi anche non è totalmente nel personaggio di Alpha, si è una donna abbastanza combattiva, è abbastanza già un pochino nel carattere di Alpha, ma non totalmente come ce l'hanno fatta vedere in The Walking Dead, quando aveva ammazzato il marito, insomma, e quindi niente, quindi quando è che si è rasato i capelli Alpha, l'aveva già ucciso o non l'aveva già ucciso questo marito, perché sembrerebbe di sì, anche perché lei aveva ucciso il marito in un'altra sede, non erano nemmeno sul battello, a me sembrava che fossero tipo barricati in un edificio, e non era un battello, dopodiché abbiamo visto alla fine dell'episodio l'incontro appunto con i sussurratori, quando è lì per uccidere Lydia, che tra parentesi avrebbe fatto bene ad ucciderla, perché io Lydia non l'ho mai potuta vedere, nel senso, boh, per me è un personaggio un po' così, cioè non è che mi piace molto, quindi era meglio che la uccideva Lydia in quel momento, mentre sono spuntate queste fatine del bosco, che in realtà non sono nient'altro che i sussurratori, e c'è l'incontro con i sussurratori, che era appunto l'Alpha, prima di D, prima di D, appunto con i sussurratori, e qui Beta, dove sta? Dove sta Beta? In The Walking Dead vediamo che Alpha incontra Beta, che è già pelata, e gli fa, in quell'occasione, gli dà l'idea appunto di fare la maschera da indossare sopra il viso, eccetera. Dove lo collochiamo Beta? Non c'è Beta in questa puntata di Tales, e le cose non coincidono, cioè la storia non coincide, quindi ha portato questa puntata, al posto che portare chiarezza, secondo me, da parte mia, ha portato un po' di confusione, perché secondo me non si sono bene messi d'accordo, o ci devono spiegare un po' la timeline, le cose, però secondo me la cosa non è stata gestita bene, perché adesso, se in un futuro ci spiegheranno, ritorneranno ancora su Alpha per spiegarci queste incongruenze, Alpha ha incontrato i sussurratori, però poi è tornata indietro, ha ucciso il marito, ha incontrato Beta e è tornato dai sussurratori, Cioè, tutta questa storia qua, secondo me, cioè no, basta, cioè, già eravamo stufi di Alpha ancora prima, che ci dicessero del... cioè, eravamo stufi, nel senso io, io parlo per tutti, però io... Però, cioè, ritirarla poi adesso in ballo ancora, in un futuro, per spiegarci ancora il passato, e rimettere insieme tutti i puntini, secondo me, anche no, quindi dovevano farlo un po', secondo me, in modo migliore. Di quello che... di quello che mi è piaciuto di questo episodio, come parli Sissi? Italiano, per piacere! Quello che mi è piaciuto di questo episodio è stato Brooke, il personaggio di Brooke, che io spero di rivedere in un futuro, sinceramente, perché mi piace come personaggio, e anche... secondo me è stata una buona leader, anche se nell'episodio non ce l'hanno fatto passare così, secondo me è una buona leader, tutto sommato, nel senso, a parte le sue, ok, uscite di testa, il ballo in ma... cioè, il ballo tutti vestiti bene, aerobica sul ponte del battello, cioè, però, secondo me, era un personaggio, che ci teneva, appunto, alla sua gente, a parte le sue debolezze, a parte le sue sviste, a parte questo, a parte quell'altro, secondo me, Brooke è un bel personaggio, e io spero di rivederla in un futuro, soprattutto dopo lo sfregio di Alfa, ok? Io, quindi, io spero che in The Walking Dead, o in uno spin-off, o comunque nell'universo di The Walking Dead, riappaia questa Brooke, così, finalmente, faremo un po' una carambata, no? Una carambata con questo personaggio, quindi spero di rivederla. Ok, e questo è tutto quello che ho da dire sull'episodio di Alfa, ovviamente, come dicevo prima, è stato un episodio molto piacevole da vedere, anche, soprattutto, per il fatto che l'attrice che fa Alfa è un'attrice immensa, cioè, è bravissima, c'è la recitazione, le emozioni, tutto quanto, cioè, è bravissima. Però, per le cose che vi ho detto prima, per queste, per queste, appunto, non coincidenze, no? Per queste cose, che non coincidono, è stato un po' un episodio così, così. Episodio 1x4, episodio 1x4, anche di questo episodio, io avevo grandissime aspettative, perché, appunto, era un episodio, secondo me, che poteva essere molto interessante, dal punto di vista dello studio sugli zombie, delle nuove notizie, di scoprire qualcosa di più, ma, in realtà, abbiamo scoperto ben poco. L'unica cosa sugli zombie che abbiamo scoperto, appunto, che ha scoperto questo dottor Everett, è che, appunto, questo suo zombie, questo suo soggetto numero 21, che poi non era altro che un suo ex collega morto per cancro e entrato nel suo studio, appunto, che si comporta in modo un po' diversamente dagli altri, e questi zombie, appunto, ha visto con lui, con il soggetto numero 21, che, per questo, si è lasciato indietro una preda, appunto, per far mangiare gli altri. Quindi, il non egoismo di questo zombie, ok? E qui c'è da aprire un po' un dibattito che verge sul fatto di, ok, questo zombie era uno scienziato, era una persona molto, a quanto pare, acculturata, poteva essere anche una persona di buon cuore, eccetera, tutto quanto. Questa cosa di lasciare indietro la carcassa, se l'è portata, è tipo un ricordo, un suo modo di essere, se l'è portata dalla sua vita umana? Oppure, questi zombie stanno avendo un'evoluzione? Perché qui parla degli zombie come Homo Mortus, Homo Mortus che fanno parte, appunto, del regno animale, insomma. Sono dei predatori, e qui c'è un po' tutto il dibattito sulla scienza verso l'umanità. Ecco, questo episodio si è concentrato di più sul dibattito scienza verso l'umanità, che poi alla fine ha vinto la scienza, a quanto pare, con degli sprazzi di umanità, però ha vinto la scienza, perché comunque il dottor Everett ha detto alla cara Amy, che è abbastanza antipatica, antipaticissima, antipaticissima Amy, di andare con lui, di portare avanti la sua ricerca, visto che comunque l'aveva vista abbastanza ferrata in materia di natura, abbastanza preparata e interessata. Lei ha detto, no, io piuttosto che finire come te, che io non so che cosa voglia dire con questa frase, perché mi sembrava una persona a posto, il dottor Everett. Io piuttosto che finire come te, piuttosto muoio. E così è stato. Ed è diventata, appunto, dopo aver perso il soggetto 21, è diventata oggetto, lei un soggetto di studio per il dottor Everett, che è solo solissimo. È rimasto solo solissimo e niente, solo solissimo con questo suo mantello, con questa sua giacca, giaccone, fatto di pelle di zombie, che questo è il suo modo per agire indisturbato, insomma, in mezzo agli zombie. Bella cosa, cioè, cosa, piuttosto che mettersi su, cospargersi di interiore, di zombie, la moda ha fatto un passo avanti. Facciamo, ci è collegato anche alle pelli degli animali, no, perché comunque le pelli degli animali vengono usate per fare borse, borsette di tutto, cappotti, pellicce, eccetera, no? Si è pensato, appunto, c'è qualcuno ha pensato di appunto creare un cappotto con la pelle di zombie per muoversi in mezzo a loro indisturbati, piuttosto che, cioè, piuttosto che cospargersi appunto di interiore, molto meglio così. E quindi niente, quindi questo è un po' il senso della puntata. Questa puntata, come dicevo, anche per quell'altra puntata, molto piacevole da vedere, ma sinceramente mi aspettavo boh qualcosa di più, avevo probabilmente le aspettative molto più alte su questo episodio perché pensavo che ci avrebbero fatto scoprire qualcosa di più, anche qui ci sono state delle riprese molto belle, soprattutto quella dello zombie che era palettato, insomma, che lo stava appunto studiando da sette anni senza interferire, eccetera, che poi viene mangiato appunto dagli animali, vediamo appunto questi animali scappati dallo zoo che si sono stabiliti in quest'area incontaminata in mezzo a questi canyon, no? E sono cresciuti, sono cresciuti, hanno prosperato, anche specie in via che erano state dichiarate in via d'estinzione o comunque estinte sono tornate e quindi gli animali stanno bene, tutto quanto, ma io avrei voluto appunto scoprire qualcosa un po' di più sugli zombie, a parte questa informazione che abbiamo avuto su questo zombie numero 21 che ha fatto questa cosa, per il resto, cioè, che cosa sappiamo? Che cosa ci ha detto che non sapevamo già? Che si muovono in gruppo? Cioè, che fanno grandi orde, si muovono in gruppo? Questo lo sapevamo già nel senso. e quindi niente, quindi non abbiamo scoperto nulla di nuovo e poi sinceramente avrei voluto che questo dottor Everett fosse stato legato magari a qualcun altro, tipo anche qualcuno degli scienziati di World Beyond, cioè, se non fosse stato lui, l'altro, il suo amico, il soggetto numero 21, magari avrei voluto che fosse stato il padre di Iris e quell'altra scema là, no? Di World Beyond o comunque o il ragazzino per dire che adesso c'è un, doveva esserci un episodio in The Walking Dead, in questa, questo spin-off di The Walking Dead in Tales che doveva essere messo nel, in scala temporale 35 anni dopo l'Apocalisse Zombie pensavamo fosse questo ma non si è capito bene se era questo o no e io sinceramente non l'ho capito non so se l'hanno detto o non l'hanno detto ma se fossero passati 35 anni dalla Zombie Apocalypse il soggetto numero 21 poteva benissimo essere il ragazzino quello là di World Beyond quello che poi gli è stato tagliato il braccio quello che è figlio dell'archeologo anche lui tutto intrippato con la natura cioè voleva un legame insomma voleva un legame che non c'è stato non ci hanno detto niente sul background di questo dottore Everett da dove arriva a chi è legato cioè non c'è niente che leghi Tales a The Walking Dead anche lo stesso episodio di Alpha con quelle incongruenze che ha avuto sembra a sé stante non lo so è questa l'idea che ho avuto insomma quindi niente fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate appunto di queste due puntate se vi sono piaciute se non vi sono piaciute se siete d'accordo con me lasciatemi un like di incoraggiamento di supporto e iscrivetevi se non siete ancora iscritti ci vediamo poi con il prossimo video martedì per la 1x5 e speriamo mancano ancora due episodi speriamo che che siano migliori di questi quattro che abbiamo visto per me secondo me anche se molto cinematografico il migliore ma che sole il migliore per il momento rimane il numero uno di questi episodi quello che mi è piaciuto un po' di più anche se veramente molto cinematografico e molto molto lontano da The Walking Dead è stato per me il numero uno fino adesso l'episodio che mi è piaciuto di più e niente quindi noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video vi ricordo appunto che usciranno anche sul canale le recensioni della casa del drago e spero di rivedervi anche lì e io vi bacio e noi ci vediamo presto con il prossimo video ciao ciao